Allora Claudio, figura storica di Riccione Baicotelli, l'ha vista nascere 25 anni fa. L'abbiamo visto un po' col fiatone Claudio? Eh sì, non mi capacito mai di come sia faticoso anche andare in bicicletta, per cui insomma soprattutto la parte finale diventa stranamente pesante, come l'ultimo sacco quando si deve trasportare qualcosa. Però in realtà la soddisfazione di essere qui ripaga poi tutte le fatiche, quindi una soddisfazione importante è essere qui soprattutto con i nostri ospiti. Ecco, una giornata celebrativa che ha tanti significati, uno appunto è di celebrare il compleanno di Riccione Baicotelli, 25 anni, ma anche altri. Sì, diciamo che oggi più che mai essere qui assieme e dire viva la Romagna è un momento di condivisione importante, di senso di comunità, di capacità di resilienza, anche se è un termine un po' abusato ultimamente. Però la verità è questa, noi ci siamo, siamo qui, siamo pronti, continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto con la stessa passione, anzi forse oggi più di prima, perché crediamo più che mai che questo territorio abbia ancora tanto da dare e se in questi ultimi tempi abbiamo avuto qualche problema, purtroppo anche qualche problema serio, noi siamo ancora qui per dimostrare che siamo sempre pronti ad affrontare qualunque cosa ci capita nel mondo migliore. E i mercati che si ampliano sempre di più, stiamo vedendo gente da tutto il mondo, per esempio nel tuo hotel, ci puoi dire le provenienze? Guarda, in questo momento abbiamo tedeschi, francesi, inglesi, svizzeri, belgi, canadesi e qualche svedese. Qualche settimana fa avevamo dei giapponesi, qualche tempo fa avevamo dei sudafricani, quindi c'è veramente il mondo in Romagna ed è una bella soddisfazione, sì, davvero. Grazie. A voi. Grazie. Grazie.